New Holland T5 Dual Command, trattori di bassa potenza con una trasmissione furba ma con una dotazione più che degna. Parliamo di mezzi veramente utili nelle aziende agricole medio-piccole, poco avvezzi e le uovi pesanti ma al contempo perfetti per la restante gran parte degli utilizzi. E se vi dicessi che questa gamma è appena stata aggiornata? Eh sì, notizia fresca fresca, vediamola assieme. Gli aggiornamenti riguardano tre punti fondamentali, la cabina, la meccanica e il design. E ora li vediamo uno alla volta. Partiamo dal design. Non servono altre parole, avete capito, si adegua alla linea degli altri trattori nuovi del marchio. Passiamo alla meccanica. Riconfermata come da nome la trasmissione Dual Command, composta da tre gamme con quattro velocità divise in due marce power shifts ciascuna, per un totale quindi di 24 velocità sia in avanti che indietro. Nuova è invece la presa di forza a bagno d'olio esente da manutenzione e a lei seguono un nuovo bloccaggio dei differenziali e un nuovo inserimento automatico della doppia trazione. Sbarca poi anche su questi modelli la sale con il sistema Supersteer che garantisce fino a 76 gradi di sterzata, ideali per le manovre a fine campo e per destreggiarsi tra i fabbricati aziendali o comunque in tutte quelle situazioni anguste che sembrano cucite su misura per un trattore del genere. Ottimo anche per preservare il gomito degli agricoltori, che non fa mai male fare meno giri di volante. Ma rimaniamo sugli assali, infatti questi nuovi T5 sono equipaggiabili con un assale ividiuti, capace di innalzare il peso massimo ammissibile della macchina fino a 70 quintali. Oltre a questo aumenta del 7% la capacità del sollevatore posteriore, raggiungendo i 47 quintali, e aumenta del 30% la potenza idraulica, con una pompa da 82 litri a minuto che garantisce movimenti più rapidi di sollevatori e caricatori frontali. Salendo poi in cabina notiamo subito le nuove sospensioni meccaniche Comfort Ride, ma una volta seduti sul posto di guida, la nostra attenzione verrà sicuramente catturata dal nuovo terminale Strumenti, riprogettato seguendo le necessità di molti agricoltori, che richiedevano di ritrovare in mezzi piccoli come questo, le stesse funzionalità di agricoltura di precisione, eccetera eccetera, presenti sui mezzi di categoria superiore, ottenendo quindi un piccolo top di gamma. Ed è così che nel sistema informatico di bordo ci sono tante piccole chicche, partendo dal pacchetto per l'agricoltura di precisione, che comprende guida automatica, terminale Intelliview 12 e ISOBAS di classe 2, per poi passare a tutti i sistemi di telematica e di monitoraggio in tempo reale dei dati del trattore e del lavoro in svolgimento, che possono essere visualizzati tramite la piattaforma New Holland Field Operations. Questa nuova versione del T5 sarà disponibile nei concessionari dalla fine del 2024 e molto probabilmente la vedremo al prossimo Eima di Bologna a novembre. Ma tranquilli, la sua prima uscita pubblica è già avvenuta, o meglio, sta avvenendo finché parliamo. Infatti si sta svolgendo ora in Francia una fiera dal nome strano, che cioè Somme d'Elevage, che è iniziata ieri e finisce venerdì, ed è stata la prima uscita pubblica di questo T5. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video, vi lascio l'articolo completo qui sotto in descrizione. Iscrivetevi, mettete like e condividete questo video se lo ritenete interessante. Ciao! Ah, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo trattore. Ciao!